Buongiorno amiche mie Allora vedete Oggi facciamo orecchiette con le cime di rape Ho messo già l'olio a fumare Olio, aglio, un po' di peperoncino Vedete E ci vado a mettere le rape Vedete che bontà, che belle che sono queste rape Le vado a mettere dentro la pentola A crudo Io le metto così Le faccio saltare nell'olio E oggi facciamo orecchiette alle cime di rape Belle, quelle leccesi Che sono ottime Vedete Facciamo ammaccare Gli metterò un po' d'acqua Mettiamo un po' d'acqua così Intanto che io faccio la pasta Le rape si cuociono Va bene Eccoci qua Mettiamo un po' di sale Ci metto anche un po' di sale Sale quanto basta Questo è il procedimento Che dovete fare per fare le rape Noi le chiamiamo rape infucate Poi ci mettiamo un po' di coperchio E le lasciamo cuocere Va bene? Questa è la prima fase che dovete fare Poi andiamo a fare le orecchiette Grazie a tutti